Marvin, quanto siete amareggiati e dispiaciuti perché l'Udinese oggi meritava quantomeno un punto, avete fatto una grandissima partita. Sì, secondo me anche, ma tutti si sentono male adesso perché tutti pensavano di meritare di più e sì, nell'aspetto di concentrazione devo migliorare un po' di cose piccole e sì, ma lavorare tutte le settimane per migliorare tutto. Ti chiedo anche qualcosa della tua partita perché anche i commentatori in televisione hanno detto che hai giocato molto bene, tante chiusure bellissime, complimenti, ti senti sempre più a tuo agio a giocare nei tre di difesa? Sì, ma per me tre di difesa, quindi per me, quando l'ora mi bisogna, io giochi, però sì, ma per me adesso non conta tanto, giochi bene, per me non sei felice per il risultato. E per fritto giocare male, prendere tre punti o un punto, giocare bene, zero punti. Adesso c'è la sosta, è importante anche per ricaricarvi perché comunque venite da un bellissimo periodo, risultati importanti anche contro squadre forti. Sì, 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 noi fattiamo bene qualche settimana, spero, sì, sempre voglio di più, no? Però sì, ma buon momento per riposare un po' e caricare.